Grazie la seconda posizione per la parte di Roma la parte di Roma la parte di Roma è l'affreddamento è un'affreddamento è un'affreddamento Sì, sono i primi 16 tempi, quindi contabili il tempo, la contaminazione, chiudete con la macchina e prendiamo anche il tempo per la loro tentatura maggiori, che ci sono? Sì, secondo Matteo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti